In data odierna, a seguito di un'articolata attività investigativa diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, personale del gruppo della Guardia di Finanza di Fratta Maggiore ha dato l'esecuzione in un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta di questa Procura della Repubblica aventi ad oggetto crediti derivanti da bonus e dirizi e di locazione per oltre 772 milioni di euro, vantati da 143 soggetti, tra persone fisiche e giuridiche, rispettivamente residenti o aventi sede per la maggior parte tra le province di Napoli e Caserta. L'attività trae origine da un'analisi operativa su impulso del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli relativa alla circolazione di crediti per lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico, nonché per canoni di locazione previsti dal Decreto Legge 34 2020. Essa costituisce il seguito di analoga attività che ha già condotto nello scorso mese di marzo a sequestro di circa 108 milioni di euro nei confronti di due fratelli residenti a valo della Lucania. In particolare gli approfondimenti compiuti sulle negoziazioni dei due imprenditori vallesi, avvenute tra il 2021 e l'anno in corso, hanno consentito di individuare un'ulteriore numerosa platea di concessionari, i cui crediti al pari dei primi derivavano da lavori edili e da locazioni immobiliari in realtà inesistenti. I predetti gestionari, infatti, avevano comunicato all'Agenzia dell'Entrata, attraverso l'inserimento di moduli di gestione al portale Entratel, la disponibilità di crediti della montare di svariati milioni di euro ricevuti a fronte di fantomatici.